buongiorno a tutti oggi farò un breve video per parlare di una tecnologia che è molto usata soprattutto in armi e per le cacce in cui si spara tanti colpi o cartucce pesanti cioè i calcioli ammortizzati in questo momento ho uno degli esempi più famosi c'è un a400 beretta con il calciolo kickoff vedete questo calciolo è ammortizzato e cosa succede quando spari riesce vedete a attutirlo lo faccio da più vicino vedete si piega e attutisce di un buon 20 30 per cento il colpo a cosa serve questa tecnologia serve per quelle persone che hanno problemi alla spalla per chi magari è piuttosto magro e tira magnum o cartucce grossa potenza o per chi spara tanti colpi ma più che altro diciamo che è un sistema che ormai molte ditte anche benelli ha creato un sistema molto simile progressive control c'è altri modelli di beretta che invece di averlo sulla base del calcio come bene come la anche la benelli lo hanno al centro del calcio con delle specie di l gommate con dei pistoni appositi e serve per diminuire il rinculo cosa vuol dire vuol dire che quando vai a sparare grosse cariche o tanti colpi eviti il discorso classico del pelivido alla spalla mal di testa perché i fucili sono quasi sempre più leggeri perché si cerca sempre di avere armi leggere e maneggevoli non è il caso di questo oggetto vic e lo sporting però la maggior parte delle persone hanno questi modelli di fucili e questi modelli ovviamente più è leggero più un fucile sente rinculo o in base anche a sistemi inerziali come franchi il nuovo browning o benelli che non hanno recupero di gas quindi tutta la botta della partuccia arriva direttamente al calciatore con questi sistemi si riesce a tutire molto molto il rinculo è chiaro che anche un calciolo di gomma già fa molto ma non sarà mai come un pistone che smorza il rinculo vedrete nel video le varie tipologie di ammortizzatori che si possono trovare ovviamente su modelli beretta e sui modelli benelli alla prossima grazie ovviamente oltre ai calcioli anti rinculo calcioli in gomma morbida tipo questi che vedete che sono molto soffici calciature ammortizzate tipo il comfort si possono trovare anche queste tipologie di canne come vedete hanno i fori che permettano di far sfiatare i gas e diminuire leggermente rinculo o in alternativa per chi ha modelli vecchi che non può cambiare né calcio né montare ammortizzatori si possono trovare questa tipologia di strozzatore che il gemini ported forato o addirittura inserire dei pesi soprattutto nei modelli beretta che hanno già la forma però lo fa anche fabarm e franchi e altre ditte ammortizzatori cioè pistoni ammortizzati che vanno all'interno del calcio e permettano vedete di di smorzare un po' il rinculo se no si può anche applicare del piombo colato o fatto in blocchetti appositi dentro le calciature però all'inizio è una cosa un po' complicata serve un armiere però diciamo che i sistemi per ammortizzare il rinculo ci sono partendo dalla base del calciolo in gomma calciolo ammortizzato calciatura tipo comfort ammortizzata strozzatore con ventilato che smorza il rinculo o pistone idraulico che serve per smorzare il rinculo i sistemi ci sono basta solamente affidarsi a gente competente che non vi fa fare diavolerie perché è già tutto in commercio con poche con una piccola spesa si può levare un problema che magari persone di una certa età o chi caccia colombacci o chi è magrolino evita di prendere brutte colpi anche in maniera da restare sempre posizionato bene per ridoppiare i conti alla prossima